È un gruppo tutto nuovo quindi ha bisogno un po' di tempo per trovare sintonia un po' anche fra di loro sia sotto l'aspetto tecnico che anche di gruppo. La società è forte nel senso che si mette in completa disposizione quindi ci stanno tutti i presupposti per poter lavorare bene. Io ho voluto fortemente la Salernitana perché appena mi hanno chiamato sono un tantennato quindi vuol dire che credo molto in questo progetto. È normale che per ottenere dei risultati immediati ci vuole ancora un po' di tempo. L'avversario lo conosco bene perché io l'anno scorso allenavo proprio lì a Benevento e proprio la primavera quindi conosco bene tutti i ragazzi. È un avversario che negli ultimi anni il percorso del settore generale del Benevento ha sempre ottenuto ottimi risultati quindi è una partita da tenere con tanta attenzione. Noi siamo ancora un gruppo che si sta conoscendo quindi sicuramente troveremo delle difficoltà e mi auguro che poi il risultato ci possa dare una mano.